Come si riuscita a proteggere i bambini prematuri e i bambini con problemi? Abbiamo una grande possibilità di poterli proteggere tutti per la prossima stagione e credo non si debba perdere tempo perché i dati che abbiamo in Puglia, ma non solo, anche i dati nazionali ci dicono che molti bambini non pretermine affollano le nostre terapie intensive, le terapie intensive pediatriche, qualche bambino in situazione molto grave, ci sono stati dei decessi, quindi l'opportunità di proteggere tutti i bambini è un'opportunità che va colta e va messa in piedi al più presto perché la stagione può cominciare, la stagione epidemica del VRS, già a ottobre e bisogna essere pronti.